eccoci qui abbiamo lanciato da poco il nostro concept alla design week di milano è stato un grande successo l'auto è piaciuta davvero molto ha avuto tanta visibilità soprattutto perché da una chiara indicazione di come saranno le nuove lancia in termini di design in termini di innovazione e tecnologia in questi mesi l'abbiamo fatta provare ad alcuni esperti ad alcuni giornalisti sia italiani che stranieri ma oggi finalmente tocca a me andiamo iniziamo dal nome si chiama lancia pura hpe ed è il manifesto del nostro marchio per i prossimi dieci anni ci piace la parola pura perché combina uno stile puro ed elegante con un'anima più radicale hpe come sapete amiamo la nostra storia ma ci piace guardare al futuro con grande ambizione quindi da high performance estate a high performance electric allora andiamo adesso a guidare insieme su pura hpe i riferimenti sono molto chiari a partire dal frontale dove la storica calandra lancia viene reinterpretata attraverso questi bellissimi raggi di luce la fiancata con linee molto semplici e pulite che richiamano quelle della lancia flaminia o della lancia aurelia e poi sul posteriore dove questi fanali rotondi sono una citazione molto evidente alla bellissima lancia strato se ha le sue tante vittorie sono questi tutti elementi che poi riporteremo sulla nostra gamma futura pura hpe è una bellissima lancia fuori ma è una bellissima lancia anche dentro qui nell'abitacolo tutto è costruito per far sentire i guidatori i passeggeri molto ben accolti rilassati è un po come nel salotto di una bellissima casa italiana come vedete sono circondato da pezzi unici di arredamento sono tutti nati dalla collaborazione con cassina che è il marchio simbolo del design italiano di interni si direi che sono proprio a mio agio mi sento un po come a casa a bordo è tutto senza sforzo intuitivo e molto semplice da usare anche la tecnologia in lancia la chiamiamo sala che sta per sound air light and augmentation sala in grado di percepire l'ambiente esterno può reagire in base alle esigenze e all'umore di chi guida e di conseguenza può regolare milioni di impostazioni possibili qui la tecnologia non è mai fino a se stessa per esempio guardate la plancia che si abbassa e diventa l'area di proiezione per tutte le informazioni di guida più importanti pensate che bene il 70 per cento di tutto quello che si può toccare a bordo all'interno dell'abitacolo è fatto da materiali riciclati o riciclabili questo è quello che vogliono i nostri clienti guidare pura hp è davvero un piacere è 100 per cento elettrica le lancia che arriveranno saranno elettriche con oltre 700 chilometri di autonomia un bassissimo consumo energetico e dieci minuti di tempo di ricarica insomma posso farne di strada oggi senza grandi preoccupazioni belle strade bei panorami e anche una bella guida ma ora è meglio tornare al lavoro tra pochi mesi arriva il grande momento arriva il lancio della nuova y e noi abbiamo ancora tante cose da preparare andiamo allora